Quell'isozima, che è un antivirale totale, era quello che le stavo per chiedere, e agisce su almeno il 50% dei batteri, praticamente su tutti i virus e su parecchi protozoi, io incomincio a eliminare una quantità enorme di agenti che hanno un ruolo negativo. Ma c'è anche il lievito di birra? Sì. Perché? Spieghiamo bene questi due elementi, sia l'isozima che il lievito di birra, perché sono belli, lievito di birra si può acquistare banalmente, e l'isozima dove lo troviamo? Dunque guardi, nel libro che ho scritto, La scelta antitumore, questi concetti sono spiegati punto per punto, ed è spiegato come funzionano e perché funzionano, e come insieme hanno un effetto moltiplicato al nostro amatorio. Allora, un elemento ovvio, in qualsiasi patologia, che sia tumorale o infettiva, io devo cercare di potenziare la risposta immunitaria. Con che cosa? Secondo un criterio ipocratico, usando dei pharmacy che al massimo effetto uniscono la minima tossicità. L'isozima, l'attoferrina, che è una proteina del latte moderna, e il lievito di birra, rispondono esattamente a questi criteri. Oltretutto, fra di loro, sono perfettamente sinergici. Se li uso tutte e tre insieme, ho un effetto moltiplicato. Perché? Perché l'isozima è una proteina basica. I virus hanno una membrana molto esile. I virus hanno un contenuto astio, dell'acido ribonucleico. A contatto, l'isozima li spacca praticamente tutti. Ha una massima potenza nei virus erpedici. Ma agisce su tutti i virus. Ad alte concentrazioni. Va usata ad alte concentrazioni continuative. Però mi prende almeno il 50% dei batteri. Protozoi pericolosissimi, come la sifilite, vengono liquefatti dall'isozima. Ci sono esperimenti al microscopio. Il professor Costa, che era il mio uomo ordinario, era professore di microbiologia. Mi fesse avvitare al microscopio una gozza di l'isozima in una cultura di spirochete, della sifilite. E scioglie praticamente. Quindi l'ilisa. Sì, allora, io cosa devo fare? Tumore della vescica, tumore di qualsiasi tipo. Se io uso, fra le altre cose, quello che mi elimina la maggior parte possibile di germi. Uso il l'isozima che non è tossico. Uso la latoferina. Latoferina mi potenzia l'immunità al punto tale che interviene sull'immunità antinfettiva e su quella antitumorale. Perché? Perché a livello di germi agisce sui potenziali di membrana dei germi, sulle cariche di superficie. E siccome la latoferina un canante del ferro gli va a bloccare il metabolismo del ferro e i batteri. Ma quanti batteri dall'intestino passano nella vescica? In cominciare delle scariche coli. Se io mi creo in una situazione di igiene della vescica, mi ripulisco l'intestino. In questo mi aiuta enormemente il lievito di birra. E il lievito di birra sono cellule, come i fermenti lattici. E le sacro mises. Cosa fa il lievito di birra? Nell'intestino mi cambia il pH, lo porta verso l'acido. Mi rende una situazione locale molto difficile per i microbi che mi danno tossicità intestinale, mi danno fermentazione, mi producono sostanze anche potenzialmente cancerogene come indoli e scatoli. Allora, abbasso il pH. Diminuisco molto la carica di germi responsabili delle malattie dell'intestino, che poi passano come le scariche a coli dall'intestino e possono passare nella vescica. Aumento notevolmente la produzione di sostanze che hanno un ruolo vitale nell'immunità, i beta-glutani, i proteoglicani. L'hanno scoperta in maniera banale con studi epidemiologici. In certe zone hanno visto che le donne s'ammalavano raramente di tumore del seno. Posevano un uso continuativo di lievito di birra per motivi estetici, perché migliorando l'intestino migliorava la pelle. Lo prendevano per quello. Come si assume questo lievito di birra? Si incomincia con una piccolissima quantità, sono delle panette di 25 grammi. Si tengono in frigo, si prendono in negozi alimentari. Si vuole un adeguamento anche enzimatico, si incomincia a tagliare una sottilissima fetta di pochi millimetri, si mette con acqua e zucchero prima di mangiare, almeno un quarto d'ora e venti minuti. Piano piano, settimana e settimana, si aumenta. Ad ogni pasto o a un pasto solo? Un pasto al giorno, fino ad arrivare a un terzo di cubetto. Allora io cosa ho in questi casi? Ho un miglioramento della flora batteria intestinale, comincio a eliminare i germi ipotosini, abbasso il pH dell'intestino, non solo. In questo contesto il seccaromites mi favorisce, ma in maniera potente, produzione e assimilazione di tutto il gruppo B. Viene prodotto e assimilato, è normalmente meglio, ma il gruppo B è la base di tutto il metabolismo energetico dei carboidrati. Cioè io regolo l'omeostasi dell'organismo in maniera ottimale. Oltre il tutto, le cellule epiteliali dei villi intestinali hanno una memoria per cui sono in grado di distinguere le sostanze utili da essere assorbite e le sostanze tossiche da non assorbire. Questo meccanismo di individuazione, di analisi da parte del cellulo epiteliale viene notevolmente potenziale dall'isozima. questa loro memoria per cui riescono a distinguere e eliminare meglio tutte le sostanze che possono essere potenzialmente tossiche. Ma nello stesso momento io ho un picco molto elevato e costante di immunoglucani praticamente. Questi beta-glucani che anche all'estero stanno usando, per esempio questi che sono polisaccaridi, i sinesi usano i polisaccaridi e pisa, i polisaccaridi e i saponesi e i capi, loro gli estraggono dai funghi, dai miseti, sono una realtà. Migliorano l'immunità anche i tumori. La micoterapia non è che c'è una storia. Loro li estragono, i loro ministeri hanno detto ma io non ho bisogno di funghi. Se do un po' di lisozima da parte, l'altoferina e il lievito costantemente, il livello immunitario del soggetto, io per forza delle cose lo aumento, lo innalzo, lo miglioro. e incomincio anche a agire su tutte quelle forme recidivanti di cestite, di infiammazione, ma in maniera banalissima, senza, e oltretutto con un impegno economico abbastanza modesto che molti possono affrontare. Ecco, se il lievito di birra lo possiamo acquistare facilmente in qualsiasi luogo, l'isozima invece dove lo possiamo trovare? L'isozima si trova in alcune farmacie come Galenico, perché se mi risulta, non so se... E abbiamo bisogno di una ricetta? Sì, però abbiamo visto anche tramite il gruppo Facebook di pazienti, c'è un gruppo Facebook, un metodo di bella di cancro si può guarire, ormai sono oltre 28.000 e si organizzano molto bene, hanno individuato le zone in cui possono acquistare a prezzi più favorevoli i vari farmaci che importano, fra le altre cose una delle informazioni dove si possono rifornire di prodotto puro l'isozima di ottima qualità come prodotto usato anche dall'industria alimentare a un costo molto ridotto e anche la vitamina C farmaceutica si trova su internet così. Allora, in pazienti che hanno già impegni economici notevoli, questo può favorire un uso quotidiano di prodotti vitali, perché la quantità di malattie hanno un supporto virale, hanno una causa virale, ma se non mi attengo una buona quantità di lisozima ne spazzo via una quantità di virus, virus, protozoi e batteri. E non mi fa male, mi va benissimo, anche perché un paziente oncologico, soprattutto in uno stato di avanzato, non è che può avere uno sistema immunitario, è più fragile sicuramente per tanti motivi. Allora, questi sono provvedimenti banali che possono essere utili. Banali ma efficaci. Sì. Quanto è importante invece studiare il metodo di Bella e oggi come oggi?